Il Sardo Paolo Melis Il Sardo Paolo Melis ha potuto piazzare il montante, ma il pugile Sardo ha risposto da par suo. Nelle ultime riprese l'azione di Melis è stata veramente poderosa e il povero negro ha dovuto ricorrere spesso a tutta la sua classe per evitare la furia scatenata del Sardo. Nessuna esitazione per i giudici. La vittoria è chiaramente di Melis. L'orgoglio del vecchio campione ha prevalso sulla giovinezza del negro.